Ancora un sequestro di piante di canapa, ancora una volta in Altavalle, a conferma di come questa coltivazione si sia diffusa nella zona e proprio grazie all'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti messe in atto dai carabinieri della compagnia di Tirano, domenica 18 ottobre i militari della stazione di Sondalo hanno scoperto nello stesso comune una nuova piantagione in località Mulini, in un terreno demaniale boschivo dell'estensione di circa 90 metri quadri a 990 metri di quota. 16 i fusti di canapa trovati di altezza variabile compresa tra un metro e mezzo e tre metri, insieme ai quali sono stati rinvenuti anche un bidone, una caraffa e un telo che servivano per raccogliere l'acqua piovana, poi utilizzata per irrigare le piante non essendoci nelle vicinanze una sorgente d'acqua. Questa volta le piante presentavano già le tipiche infiorescenze della marijuana, contenenti il principio attivo che caratterizzava la sostanza stupefacente. Gli uomini dell'arma hanno stimato che da quella quantità di piante una volta pulite e dessiccate sarebbe stata ricavata una quantità di circa 2 kg di droga. La canapa è stata estirpata e portata in caserma, dove è stata posta sotto sequestro in attesa che l'autorità giudiziaria ne autorizzi la distruzione. Con quest'ultimo ritrovamento salgono a 60 le piante di marijuana rinvenute in alta valtellina dai carabinieri della compagnia di Tirano negli ultimi due mesi.